Che tanto siamo sempre qua a pagare? E la luce, il gas, il telefono... Prima o poi ci faranno pagare anche l'aria che respiriamo. Ma io con 400 euro al mese di pensione, che posso fare, eh? E i politici se ne fregano. Ah ma prima o poi me la tolgo questa soddisfazione e ammazzo qualcuno. Oh se l'ammazzo! Vita? Devo andare in una raccomandata molto urgente con ricevuta di ritorno. Ricevuta di ritorno dice. Un attimo e sono assoperta da lei. Bertelli! Ricevute di ritorno ne abbiamo ancora! Vabbè! E di andata? Vabbè! Di andata e ritorno! Vabbè! Solo ritorno! Vabbè! Vabbè! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.